Ti prego, compari Dragosarro! Oh, cosa succede? È diventato buio all'improvviso! Credo di aver capito! Tieni giù le mani, Oscar! Ma io ho paura! Stami vicino, Bulma! Qual è il vostro desiderio? Io lo esaudirò, ma attenti! Potete chiederlo solo una volta! Beh, ecco! Io vorrei che i Saiyan sparissero prima di arrivare sulla Terra! Certo che però non è un desiderio da poco! Cosa dici? Ma sei impazzito, Oscar! Hai intenzione di lasciare Goku nell'aldilà? Certo che no, ma potremmo sempre farlo resuscitare un'altra volta! Intanto risolvere il problema dei Saiyan! Non posso accontentarti! Io sono una creazione del Supremo! Pertanto qualsiasi desiderio che vada al di là dei suoi poteri non può essere esaudito! Chiedetemi qualcos'altro! Allora ti chiedo di far resuscitare il nostro amico Goku! Beh, questa è una richiesta che posso tranquillamente soddisfare! E così Goku è tornato di nuovo in vita! Questo significa che i Saiyan stanno per arrivare sulla Terra! Oh!